Siamo al Gala della Rosa, finalmente per la pandemia in poche parole l'avevamo sospeso, finalmente siamo riuscite a ripetere il Gala della Rosa che ogni anno in questo periodo praticamente facciamo questa serata benefica dove ci sono le istituzioni, i carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tanti imprenditori e liberi professionisti. È una serata benefica dove noi parleremo dei progetti che abbiamo comunque fatto durante la pandemia perché l'Associazione Sole nel Cuore non si è fermata grazie a tutti i volontari che si sono impegnati e hanno sfidato anche la pandemia.